La Maratona Teleton arriva nelle scuole. Ieri ad abbracciare il grande progetto nazionale di solidarietà è stato l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo di Gela. Grande partecipazione di studenti e docenti. Il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Raccogliere fonti per la Teleton è molto importante perché sappiamo che la Teleton combatte le malattie genetiche e quindi è una tematica importante per la salute. I nostri ragazzi sono molto sensibili a queste tematiche e hanno raccolto delle somme che devolveremo alla Teleton. Sicuramente con ciò manifestano il senso di solidarietà e il senso di dar senso e importanza a queste tematiche. Sappiamo che la Teleton si occupa di questo, si occupa di cercare di combattere e sconviggere queste malattie genetiche che riguardano la distrofia muscolare, la sclerose e tantissime altre malattie. Quindi la ricerca è un qualcosa di importante e il fatto che i ragazzi manifestano questa solidarietà, si comportano in questo modo, nel senso che raccolgono fonti per, è qualcosa di molto importante per gli educatori e per la scuola. Per cui ringrazio i ragazzi e gli insegnanti che sono riusciti a realizzare questa giornata.